Prima di commentare il video, guardatelo fino alla fine, perché potrei reclutare giocatori che voi commentate prima di finire a vedere il video, ok? Waheykooj, ben ritrovati da vostro, andando in cramattura in questo nuovo episodio di Inasma Eleven Strikers. Oggi si continuano sempre con le coppe come ogni giorno facciamo, e oggi tocca alle coppe dell'Alius Academy. Abbiamo la caos oggi da affrontare, una squadra piuttosto particolare. Ma noi non ci scoraggiamo affatto, la squadra è composta da vari giocatori dell'Alius, unendo le forze vinceremo. E iniziamo allora, inizia la partita certo. E ho cambiato anche allenatore, ho messo la signorina Aquilina Schiller, quindi le cose iniziano a farsi davvero davvero interessanti. E la squadra adesso per il momento è così, poi ovviamente leverò Axel, leverò Kevin, lascerò Sanford, Afrodite e Sion, già di default. Mark importa come sempre, come sempre Mark, vedrò, vedrò se cambiarlo. Jude lo levo, Jim lo levo, Bobby lo levo, Nathan lo levo. Anche se poi magari potrei usare Axel e Nathan per fare Ali di Fuoco, che già gliel'ho imparata, gliel'ho fatta imparare a tutti i costi. Ieri mi sono messo lì, imparatela. Vediamo, vediamo cosa fare. Stadio Absolute Royal per la Chaos. Speriamo. Iniziamo subito con i passaggi. Passiamo sempre la palla, ragazzi. Ehi, già rubate palla? Non ti azzartare, eh. Oppla. Vabbè, 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 non ci preoccupiamo subito. Uh. Oh, attenzione, questo. Ehi, ho paura. Ah, ah, così che vuoi giocare? Vuoi giocare pesante? Ehm, ragazzi, eccolo, grande. No, 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 no. Eh, Bobby, Bobby. Vabbè, in porta non ci arriverà mai, comunque sia. Goker. Chi è Goker? Ehi, eccolo, eh. Dove va? Ah, lui me l'ha fatta? Pensavo di essere io con Bobby. Tanto non mi farà mai gol. È quasi impossibile fare gol se non hai, tipo, qualche trucchetto o la strategia giusta. Eccolo, Bobby. Ci penso io. Mi dispiace, Bobby, ma verrai rimpiazzato. Te lo dico già da adesso, così non ti fai false illusioni. In faccia, dagli un calcio in faccia. Da tanto qua non è fallo. In Inazuma e Reven sono ben poche le cose che fanno fallo. Che fanno fallo? Oh mio Dio, com'è? Con chi la faccio? Solo con Sanford posso farla. Eh, mi sa di C. Chi l'avevo imparato? Solo calcio gemello? No, avevo premuto io meno per fare la difesa? Non era carico Jack? Forse non era carico. Va bene, va bene. E Nathan? Vabbè, passiamola ora. Ah, potevo fare tiro angelico con lui che era quasi un gol sicuro. Se nessuno la bloccava era un gol sicuro. Ieri, infatti, con tiro angelico... Ho fatto un gol dalla mia metà di campo. Ah, ma io ho attivato il furore? Perché ho attivato il furore? Mi sono sbagliato, evidentemente. Si è buttato in una maniera improponibile. Ah, potrei tirare con Axel e con... E con... Come si chiama? Con Jack, non hai nomi. Con Jack e fare trampolino in Azuma per provare a fare quasi un gol sicuro? Ma perché non... Ah! Che fastidio! Quando avanzano con le tecniche spianate lì che sono pronti a farle è un fastidio. Allora, aspetta. Se Jude ha comunque sia... Ecco... Come ti piace? Come ti piacciono le mele? Questa era una battuta del film... Non mi ricordo. Opla, ok, ok. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Perché Kevin? Perché Kevin? Perché Kevin? Voglio fare il Dragon Tornado ma hanno fatto il trampolino in Azuma. Ha la voce da Femmina della Pacotto? Perché? Difesa! Vabbè, sì, difesa. Difesa non esiste. Solo l'attacco. Vabbè, vabbè. Come? Dai! Porca miseria! Ma perché? Oh, appena attivo il furore, tac! Questi fanno la tecnica e si finisce con un attimo. Eh, questa volta non ci ho fatto caso che aveva la palla... L'amichetto mio bello. Non c'è nessuno in difesa. Questi tirano. Marca miseria. È una rottura di scatole quando è così. Va bene, va bene. Eh, no, no. Tiro lo stesso, so che non posso fare nulla, però almeno... Passiamo un po' il tempo, passiamo. In attesa che scada. Di certo non mi aspettavo di segnare col trampolino in Asma, però... Volevo fare il Dragon Tornado con Kevin, ma Jude e G-Jude. Jack si è messo in mezzo. E mio Dio, questo non so come lo paro ora. Cos'è? Ghiaccio di fuoco? Com'era? Foco incrociato? Ghiaccio di fuoco, ecco. Ghiaccio di fuoco. Ci potrei riuscire? Potenziata? L'evoluzione 2 è potenziata? No. Ci proviamo? Tormenta di fuoco? In teoria dovrebbe segnare tormenta di fuoco, eh. In teoria. Però quello è l'anime, non è il videogioco. Anche se poi nel videogioco effettivamente segna di default. E invece no. Non contro la Chaos. Niente, Kevin non si sa dov'è. Non si sa dov'è Kevin. Aia. Che bello. Fatti avanti, yeah. Così ti voglio, Bobbio, guerrito. Niente, giocatori non ci sono. Vai ora, vai ora. Vai ora con calcio gemello. Ce la farò? Calcio gemello. Non ho mai visto un tiro del genere. Mura, due fiame. Larrate. Sono riusciti a pareggiare i conti. Non sono neanche sforzato troppo. Ehi, ehi, ehi. Beccatevi sta palla. In bocca, tra i denti proprio. Si incazzeranno con il furore. Aspetta, vai prendere palla prima. No! No! Cosa fa? Ma livello 3 addirittura sta tecnica? Va bene che gli alieni erano forti, ma fino a sto punto? Eh, la fermerai, no? No, infatti. Vai, tiriamo con tormenta di fuoco! Ce la possiamo fare, in effetti, eh. Se volendo. Volendo potremmo fare un gol. Non ho mai visto un tiro del genere. Ah. Noi invece no, non ce la facciamo. Ok, ok. Kevin, Kevin. No. Vai! Vai ora con Afrodite! Vai! Eccolo! Il gol del pareggio. Colpo supremo. Primo al tiro angelico l'ho chiamato, ma... Tant'è. Quasi lo stesso tiro. Non ce la... Non può pararlo. Non può. E' il gol del pareggio. E' il gol del pareggio. Niente, perderanno. C'è ancora tempo. Se vogliono tirare, io aspetto, eh. Ah, parca miseria, però. Dai. Una cosa veloce, grazie. E... Stavo correndo. Tu quando uno corre, non devi toccarlo. Che dopo c'è il fallo involontario. Dov'è Sanford? No, era pronto. Avevo lasciato. Avevo lasciato. Ho ottimato il foro involontariamente. Non volevo, mi dispiace. Davanti alla porta gli tiro. Con un semplice tornado di fuoco, però... Non cambia nulla se è davanti alla porta o centro campo. Se deve fare gol, fa gol. Se non deve fare gol, non lo fa. Si sta potenziando la tecnica. Prima l'ha fatto. Muro di fiamme versione 2. Effettivamente si era potenziata. Ok, provaci ora, provaci. Tormenta di fuoco. Di nuovo, muro di fiamme. Versione 2. C'ha paura, allora. Ha paura. Hai supplementari? Preciso! Preciso! Con Kevin! Vai! Vai Kevin! Vai Kevin! Che potenza, signori! Che potenza! Errate! Ottimo, ho segnato! Voglio i golden goal. I golden goal. Bianchi, silver. I golden. Uuuuh. Uuuuh. Che i golden goal non esistono più. Voglio i golden goal. Basta. Ho vinto. No, 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 no. Jack. Jack, Jack è carica, la tecnica di Jack. È carica. Attivati in qualche modo. Attivati. Grande Jack. Ok, un po' da rallenta. Un po' da rallenta. Ti prego, ti prego. Nooo. 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 Perché volevo i golden goal io? Perché? Ah. Eccolo. Pinguini imperatore numero uno. Il pinguinozzo. Questo è forte, eh. Livello 3. Non può pararla. Come arriva veloce in porta. Perché è potente. Versione 2 non ti salverà. Neanche versione 2. Come? Come ha fatto? Uomo donna, come hai fatto? Cosa è successo? Gli ho uccisi. Si stanno scannando, no? Che gli animi si scaldano. Non mi hai neanche toccato. Neanche nel cerchio. Neanche il pelino d'erba che era attaccato alla suola. Che stava svolazzando in quel momento verso di te mi ha toccato. Mannaggia la morte. Non la respingere, Mark. Prendila. Eh? Pensavi? Eh? Li ho fregato tutti. No! Maledetto! Maledetto! Vai! Tiro con Bobby! Tiro con Bobby proprio il colmo. Illusi. Siamo illusi. Sì, ma tu non sei una donna. Sei un uomo. Se non sbaglio. Poi magari mi sbaglio. Sinceramente quel giocatore non l'ho mai potuto sopportare. Il peggior portiere della storia. Il più odiato. Di tutto in Azuma. Neanche la madre lo recluta sul gioco. Sono pronto. Sono pronto. Il portiere è imbattibile. Vai. Oh! Che palle quando è così. Se la passo. Passala veloce, no? È un grosso errore così però. È un grosso errore. Ho capito che l'hanno voluto fare in questo modo. Però ragazzi, è un errore enorme. Più vicino mi avvicino. Che possibile. Più vicino vado meglio è. Non lo so. Forse funziona anche la distanza. Non lo so. Può darsi. Può darsi sì come può darsi no. Ai ai ai. 4 a 3. E dai. Che abbiamo rifatto? Italia-Germania? Dai. E questo è il primo tempo supplementare oltretutto. Portiere però sta un po' scarico vedo. Sì, ma quando finisce sto tempo supplementare... È finito. Eh, dai. Purtroppo attivo il furore involontariamente. Non è che lo faccio apposta. È involontario. Purtroppo per sbaglio mi si attiva. Mentre voglio cambiare il giocatore. Però voglio anche correre. Tengo premuto A e B insieme. No ragazzi, bloccatelo. 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 No. Dai, se non mi pare colpo a spirale, io spengo tutto. Spengo. Ah, beh. Volevo dire. Eh, che cavolo. Mo basta. Vai. Vai, Byron. Byron, Afrodite, come ti pare? Basta che segni. Basta che segni. Basta che segni e ti voglio bene. Ti voglio bene tutta la vita. Grande! Sì. Sì. 5-4. Quanto devo soffrire ancora in questa partita? Quanto? Dimmi un numero. Da 1 a 10. Io ti dico ok. Ok. Accidenti. Non c'è nessuno. Non importa. Non importa. Va bene. Tiriamo. Tiriamo. Facciamo passare... Mo ci voglio andare in burning, però. Mo sì. Mo ci voglio andare proprio io. Vai. Vai ora. Vai. Vai, Sanford. Dai. Dai. Che potenza, signori. Che potenza! Mura di fiame! Parata. Il portiere è imbattibile. Signore e signori, si chiude così la nostra partita. Una vittoria è stata meritata. Tutti hanno combattuto fino all'ultimo. Risultato sofferto. Risultato sofferto. Davvero. Ma davvero tanto. Ciao, Chester. Ci vediamo domani. Mo voglio vedere Grant. Grant, il portiere. Grant Cook. Che non è affatto male. Ha presa C. Contro Mark, che ha presa D. Ingaggio Grant e metto lui in porta. Poi ingaggio anche Torch. È il top. È davvero il top. È molto forte. Certo, ci vuole un attimino per caricare la tecnica, però... Sanford lo metto un attimo in panchina e al suo posto metto Sion in attacco. Kevin e Axel per fare la tecnica, che ce l'ha Kevin e non Axel. Mi sono sbagliato infatti durante la partita. Devo mettere Kevin più vicino ad Axel possibile. Jack sale un po' troppo, ma va bene. E ok. Quindi penso che per il momento la squadra va bene così. È stata una partita davvero, davvero difficile. Devo allenare i giocatori. Devo allenarli assolutamente. Certo, è un po' diverso dal classico Enazuma, che devi fare un miliardo di partite per fargli arrivare a un livello decente. Qua è un po' diversa la cosa, ma comunque sia il grinding c'è sempre un po' da farlo. Allora, in modo, Kuge, questa partita sofferta, questo parto, finisce qui. E come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo come sempre che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye. Ora che il video è finito, potete darmi consigli. Grazie.